Il caso del TSO allo studente di Fano parla una compagna di scuola che tempo fa lo ha intervistato per i social che però va controcorrente raccontando alcuni aspetti inediti del carattere un po' ribelle del giovane. Studente di 12 anni trasportato in ambulanza al Torretti di Ancona dopo un incidente il ragazzino stava andando a scuola in bicicletta. Paura per un automobilista che ha imboccato la superstrada a contromano. Dopo lo schianto i due finiscono all'ospedale. Sgominato una banda internazionale di bionde a scoprirla è stata la guardia di finanza che ha sequestrato un carico nascosto di 400 kg di sigarette. Il Giro d'Italia fa tappa nelle Marche e spettacolo mozzafiato alle grotte di Frassassi. Occhio alla notizia in studio Marco Ferri Ben trovati cari telespettatori di Fano TV benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia. Apriamo questa edizione tornando a parlare del caso del 18enne fanese che è stato sottoposto a TSO nei giorni scorsi. Perché? Perché questa mattina Signora Zonghetti ha incontrato una compagna di scuola che lo ha intervistato qualche tempo fa per i social. E racconta di un passato un po' turbolento di questo ragazzo. Io gli ho fatto tempo addietro un'intervista dove lui appunto esternava queste sue opinioni dicendo che era fascista, dicendo che era omofobo e dicendo anche che voleva curare il cancro con il bicarbonato. Lei è Zuhur, ha 18 anni e nata in Italia ma ha origini tunisine e frequenta la classe quarta dell'Iceo Nolfi a Polloni, istituto che ha la sede all'Olivetti nel centro storico di Fano, lo stesso edificio, in cui è successo l'episodio che ha coinvolto il coetaneo sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Zuhur, che conosce i giovani si diletta a realizzare interviste anche per i social, oggi ha voluto esprimere la sua opinione sulla vicenda, raccontandoci alcuni aspetti caratteriali del 18enne che per protesta a mercoledì scorso si era legato ad un banco rifiutandosi di indossare la mascherina in classe. Magari il ragazzo dovrebbe essere seguito anche da uno psicologo, da qualcuno, perché queste sue opinioni vanno a contrastare anche la libertà di certe persone. A me hanno mandato dei video, mi hanno detto delle cose che quando le ho sentite sono rimasta proprio all'ivita, bocca aperta, cioè ha lanciato un astuccio a una ragazzina soltanto perché era un'immigrata, ha cercato di fare a botte con un ragazzo di colore solo perché era di colore, cioè sembra di essere tornati all'ignoranza di un tempo, veramente sconcertante. Ho parlato anche con i suoi compagni di classe, prosegue la giovane, ed è emerso, ha detto, che la scuola si è confrontata con i genitori, ma loro non hanno affrontato seriamente il problema con il figlio, lasciando a quest'ultimo il libero arbitrio. Credono di aver ragione, però non sanno tutto il passato del ragazzo, che anche nel servizio delle Iene hanno ritratto come se fosse un bambino. Però questo ragazzo ha 18 anni, ha un libero pensiero e anche può fisicamente parlare, comunicare con altre persone, quindi dovremmo prima di arrivare a dare la colpa alla società, alla scuola, dovremmo anche guardare indietro l'infanzia del ragazzo. Dando la colpa al negazionista di turno, il 50enne, non è giusto perché comunque il ragazzo è già arrivato con le sue opinioni testarde, ferree, al negazionista. Lui credeva che Fortnite, un gioco, fosse sorretto da Satana, ci fosse dietro Satana, ed era ferreo nelle sue intenzioni. I ragazzi avevano come reazione una risata e il ragazzo in questione comunque urlava, sbraitava contro queste persone per imporre la sua opinione. I a scuola, confermato la ragazza, nei confronti del diciottenne erano già stati presi diversi provvedimenti. Era la quarta volta, ci racconta, che la dirigenza contattava le forze dell'ordine o il 118 perché lui non voleva indossare la mascherina, non rispettando le norme anti-Covid. La preside cosa doveva fare? Doveva assolutamente prendere altri provvedimenti perché ne aveva già presi i discorsi, anche mandando il ragazzo in dad, pur di assecondare le sue opinioni testarde riguardo alla mascherina che è anticostituzionale. I docenti che cosa ne pensano? Vi siete confrontati con loro in questi giorni? Io mi sono confrontata con un paio di miei docenti riguardo anche all'avvenimento, dato che faccio anche le scienze umane, quindi mi sono confrontata con una psicologa e la prof comunque è rimasta anch'essa sconcertata riguardo a questi avvenimenti che comunque hanno dipinto il ragazzo come se fosse lui la vittima, ma in questo caso se tu hai un passato del genere è un po' ovvio che avvengono queste cose, quindi non puoi ritenerti la vittima. E adesso la cronaca. Uno studente di 12 anni è stato investito da un'auto a Marotta di Mondolfo mentre stava andando a scuola in bicicletta. Paura questa mattina a Marotta dove un ciclista di 12 anni è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada. È accaduto intorno alle 7.30 lungo la strada provinciale Pergolese all'altezza dell'intersezione con Viale Europa. Il ragazzo che si stava recando a scuola è rimasto ferito ma sempre cosciente. Sul posto, oltre ai vigili urbani al 118, è atterrato un'eliambulanza. Il 12enne è stato trasportato per accertamenti all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona ma non è in gravi condizioni. Illesa invece la conducente dell'auto, una 64enne residente nel comune di Mondolfo che stava percorrendo la strada in direzione Marotta. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale che dovrà accertare anche se il giovane abbia attraversato sulle strisce pedonali presenti in quel tratto. Altri due incidenti si sono verificati, sempre questa mattina a Pesaro, il primo alle 9.05 lungo la statale 16. Una moto BMW condotta da un 58enne di Pesaro ha tamponato uno scooter guidato da una 27enne del posto. Ad avere la peggio è stata la giovane, ferita lievemente, che è stata trasportata dai sanitari al San Salvatore. Intorno alle 11 poi è accaduto un altro sinistro in via Fratelli Cervi nel quartiere di Villa Fastigi, dove un settantenne di Vallefoglia, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della Mazda 2 sulla quale viaggiava e all'altezza dell'istituto di credito ha battuto la segnaletica dell'attraversamento pedonale ed è finito contro un'auto in sosta. L'uomo, che è rimasto ferito, è stato portato all'ospedale di Pesaro. In entrambi i casi, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale di Pesaro. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane di Ancona hanno sgominato un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi tra l'Ucraina e l'Italia. Durante il controllo di un container che trasportava legname in pellet sono stati scoperti 400 kg di sigarette occultate all'interno del carico. Dopo il primo sequestro sono state avviate le indagini, dalle quali è emerso un sodalizio criminale internazionale composto sia da soggetti di nazionalità ucraina che avevano il compito di finanziare l'acquisto delle bionde e organizzare l'esportazione sia da italiani che dovevano gestire il carico una volta arrivato nello scalo di Ancona. La banda è stata sorpresa in flagranza di reato in un capannone utilizzato come punto di stoccaggio e situato nella provincia di Teramo. L'operazione ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di veicoli cellulari e oltre una tonnellata di sigarette. Adesso la pagina della pandemia. Sono sette i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche. Tra le vittime c'è anche un'anziana di 88 anni di Mondolfo. Invece i positivi sono 233, come vedete dal cartello 91 in provincia di Peso Urbino, poi Macerata, Ancona, Ascoli, Piceno, Fermo e 15 da fuori regione. I degenti in terapia intensiva scendono a 50, mentre quelli in semi-intensiva a 93. Adesso andiamo nel comune di Vallefoglia dove è stato presentato il nuovo progetto progetto per riqualificare il monte di Colbordolo e l'area boschiva. Angelica Panzieri. Quella volta era un'attività... Rilanciare il monte di Colbordolo a livello sportivo e turistico è l'obiettivo del comune di Vallefoglia che per l'area in questione ha pensato ad un progetto ad hoc che entro l'anno potrebbe vedere la luce. Pista da pump track, area crossfit, potenziamento, punti della raccolta rifiuti, area barbecue, sentieri ad uso promiscuo per biciclette e trekking nella pineta sono solo alcuni dei punti principali del progetto, ideato e promosso da un gruppo di giovani ciclisti del territorio. Abbiamo avuto assieme un insieme di idee che abbiamo presentato in comune che abbiano accettato questo progetto di rilancio del monte di Colbordolo. Abbiamo proposto di realizzare una pista per quanto riguarda i più piccini da realizzare accanto al parco giochi già esistente, una pista da pump track, una zona di crossfit per i più adulti che magari insieme in famiglia accompagnano i bambini a divertirsi in bicicletta e approfittano anche per fare un po' di attività fisica. Abbiamo pensato anche ad un'area barbecue sul monte di Colbordolo, una bellissima zona adiacente al vecchio ristorante Orizzonte, dove potersi, speriamo appena finisca questa pandemia, riaggregare e fare qualche bella mangiata tutti insieme, un'area camper di sosta dove la gente che transita, i turisti che transitano a visitare la valle dell'Urubinate o il bellissimo borgo di Montefabri possano magari sostare o fermarsi un giorno in più, una nottata in più qua nella zona e perché no approfittare dell'area barbecue o di un barretto qua per mangiare. Poi abbiamo pensato anche al discorso biciclette e trekking, valorizzando i percorsi già esistenti in mezzo alla parte boschiva del monte e realizzare, aggiungere qualche altro percorso più o meno impegnativo per anche i biker più estremi che vorranno dilettarsi nelle discese a partire dai 396 metri del monte di Colbordolo e raggiungere il fondo delle varie vallate di Ponte Vecchio e di Buca Ferrara. L'idea è ridare una centralità al monte di Colbordolo che è uno dei punti più importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e storico e culturale della città di Vallefogli. In secondo luogo, ma questo lo diremo a sé, presenteremo a breve un progetto di quasi 2 milioni di investimenti sul monte di Colbordolo e Montefabri di depurazione e di metanizzazione, cioè di qualità ambientale delle zone collinari e poi valorizzare anche la ristorazione, qui si mangia da Dio, si sta bene, c'è l'aria buona, c'è di tutti e di più. L'abbiamo già provato come giunta, si tratta di vedere, di trovare alcune risorse per realizzarlo. Una volta provato il progetto, sapete bene che se uno ha le idee, ha i progetti e cerca anche le risorse per realizzare le idee progettuali. Cambia la strategia comunicativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Filippo Pucci. La Fondazione Carifano guarda il futuro investendo nella comunicazione attraverso l'aggiornamento di un nuovo sito internet, la realizzazione del logo identificativo e l'approdo nei canali social. Il marchio è stato realizzato attraverso uno studio ben preciso, infatti sono stati inseriti gli archi, elementi distintivi e artistici della città fanese e un richiamo al vecchio logo, ovvero la presenza del cerchio arancione che identifica la comunità e le persone. Non potevamo rimanere indifferenti a quelli che sono oggi gli strumenti per comunicare in modo adeguato. Quindi poi tra l'altro uno dei target che ci sta particolarmente a cuore è quello dei giovani e oggi questo passa attraverso anche per esempio i social network. Quindi la Fondazione, partendo da una rivisitazione del logo, del sito, per renderlo maggiormente fruibile e più ricco di informazioni da fornire, passiamo anche attraverso all'utilizzo di social network e anche il nostro notiziario è un notiziario che è rivisto, riveduto e corretto per appunto adeguarlo al momento. Durante la conferenza è stato presentato anche il nuovo sito web, totalmente rivisto sia nell'impostazione grafica che nei contenuti più semplici e intuitivi agli utenti. Diverse le sezioni e gli argomenti presenti, tutti suddivisi da una colorazione differente. Tra le novità anche uno spazio dedicato alla richiesta di utilizzo degli spazi gestiti dalla Fondazione Carifano. Nel sito della Fondazione c'è tutta una sezione dedicata intanto per chi ha necessità di chiedere degli spazi che sono spazi che vengono messi a disposizione delle associazioni per iniziative varie oppure c'è anche inoltre in aggiunta c'è anche uno spazio dedicato proprio alla condivisione di progetti e alla condivisione di attività che svolge la Fondazione. Quindi chiunque potrà decidere di partecipare come nel caso per esempio del crowdfunding, delle iniziative che la Fondazione sta promuovendo in questo periodo oppure anche con delle donazioni perché la Fondazione c'è e è a disposizione del territorio ma anche il territorio dovrà riconoscere l'attività della Fondazione e magari contribuire anche e partecipare a delle iniziative che sono iniziative che vengono condivise con il territorio. E dopo un periodo di stop a causa della pandemia riprendono a Fano con il CSI i campionati di calcio a 5 e calcio a 8. Simona Zonghetti. La novità più grande è il luogo in cui si disputeranno, la conferma invece è la voglia di tornare piano piano alla normalità con lo sport in tutta sicurezza. Il CSI Pesor Urbino torna ai blocchi di partenza con i campionati estivi di calcio a 8 e calcio a 5 che per la prima volta saranno ospitati nei campi di Tre Ponti, un impianto sportivo che è un fiore all'occhiello della città di Fano e che d'ora in avanti viaggerà a braccetto insieme al comitato preseduto da Marco Pagnetti. Il fischio d'inizio sarà il 26 maggio per quanto riguarda il calcio a 5 e il 31 maggio per quanto riguarda il calcio a 8. Faremo la prima tappa qui perché abbiamo in programma di fare anche altre tappe su tutto il territorio provinciale. Per quanto riguarda le norme anti-Covid c'è qualche regola ancora da seguire in particolare? Le regole sono sicuramente prima di tutto il buon senso, l'utilizzo della mascherina anche quando si sta in panchina e soprattutto quando si accede alla struttura. Poi mentre si gioca ovviamente non si utilizza la mascherina ma questo è dovuto al fatto che verranno utilizzati i protocolli del Centro Sportivo Italiano che sin dall'inizio pandemia, grazie alla collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, J Medical e l'Università Cattolica di Roma, abbiamo creato dei protocolli adatti apposta a poter svolgere la propria attività sia in zona gialla che in zona arancione. E potranno essere utilizzati anche gli spogliatoi, ha precisato Pagnetti, perché si tratta di campionati di preminente interesse nazionale. Ad organizzarli insieme al CSI ci sarà la polisportiva Jack & Daniel, la società che gestisce la struttura, dotata di due campi in erba sintetica. Sempre qui, dal prossimo settembre, si disputeranno anche i campionati storici invernali CSI, interrotti lo scorso anno a causa del Covid. Quindi all'interno dello spogliatoio si troveranno dei cartelli predisposti per rispettare le distanze e soprattutto all'interno dello spogliatoio non accederanno più di quattro persone alla volta. Come dicevo prima, il buon senso di rispettare i protocolli che il CSI darà a tutte le società sportive che parteciperanno ai nostri campionati, che appunto, come dicevamo prima, inizieranno a fine mese, e quelli successivi nei mesi successivi. E ovviamente di stare sempre attenti, di non cercare gli abbracci, di non cercare i saluti, eccetera. Bisogna che in questo momento facciamo uno sport leggermente diverso al solito, ma credo e spero con tutto il cuore che a ottobre si possa ripartire con i campionati come si faceva prima, magari con qualche accorgimento comunque sempre, però si riesca a partire. La città di Pesero ha accolto Elio Brusamento, portavoce dell'Associazione Sclerosi Tuberosa, che sta percorrendo l'Italia a piedi per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui problemi legati a questa patologia. L'uomo, se è di 69 anni, alpino ed atleta, ha scelto Pesero come terra tappa intermedia del suo viaggio di solidarietà, che è iniziato il 25 aprile 2019 da Trieste. Il percorso di Brusamento ha toccato oltre 600 comuni italiani raggiunti a piedi per 9.000 chilometri, in un viaggio lento per far conoscere una malattia rara diagnosticata per la prima volta nel 1995, che colpisce un bambino ogni 6.000. Adesso guardate queste immagini, si tratta di un'automobilista che ha imboccato la superstrada a contromano per poi schiantarsi contro un furgone, successo oggi lungo la statale 77, tra gli svincoli di Monte Cosero e Morrovalle. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Guardate che cosa sta combinando, ecco l'impatto, entrambi i conducenti sono finiti all'ospedale. Oggi la sesta tappa del Giro d'Italia ha attraversato la regione Marche, nel comune di Genga, l'uomo luogo in cui è partita la carovana, era presente anche il governatore Francesco Acquaroli. È una giornata importante all'insegna dello sport, del divertimento e della spensieratezza, ha commentato il Presidente. I riflettori sono puntati sul nostro entroterra e su tutte le sue attrattive, dai paesaggi alla cultura, dall'enogastronomia alle manifatture degli artigiani. La carovana ha attraversato il cuore della regione e di territori colpiti dal sisma per ben 150 chilometri, di cui 17 in salita. Una tappa impegnativa e dal significato storico, visto che l'iniziativa si è svolta in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della scoperta delle grotte di Frassassi. A tagliare il traguardo a Colle San Giacomo, in provincia di Ascoli Piceno, è stato lo svizzero Gino Mader. Lue di prossimo c'è Primo Cittadino, l'ospite del nostro programma sarà il Sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. L'informazione torna domani mattina alle 7. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.